Giorgio Brocchi, ex ballerino anche lui, amatore, abbiamo il maestro Pasquale Romagna, il signor Battistini Leandro e il signora Emerenziana. Loro tuttora stanno facendo scuola, hanno una scuola di ballo. Perciò, signori, noi siamo pronti, la giuria l'abbiamo presentata, i ballerini sono qui tutti schierati e facciamo prendere posizione, prego, prendiamo posizione in pista, prendiamo posizione in pista, voi sapete che la gara va ballata in senso anti-orario, delle otto copie che abbiamo in pista, la giuria ha il compito di scegliere due coppie regine che dovranno disputare la finalissima domenica prossima. Questa è l'ultima serata per la qualificazione, bene, ci siamo, ci siamo tutti, andiamo con il meraviglioso di cinque parti prima, bene maestro, pronti, partiamo. Facciamo un bel applauso all'inizio gara. 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 Molto bene, ognuno fa la sua bella parte Ultima parte Molto bene